E' stata la più brutta libertà sracalmuto di questo avvio di stagione tra campionato e Coppa Italia. Gli uomini di mister Alessandro De Caro deludono le attese dopo la brillante vittoria costruita contro il 5 Torri Trapani e la buona prestazione infrasettimanale in Coppa contro il Camarat, nonostante la sconfitta, fanno un passo indietro. Perdere all'Ercara Friddi, attuale capolista del torneo seppur in condominio con il Don Carlo Misilmeri, ci può stare. Ma ci sono modi e modi di incassare una sconfitta. E quella subita ieri dai racalmutesi è semplicemente una sconfitta subito da dimenticare. Come da dimenticare è stato soprattutto il primo tempo, giocato dagli undici di mister De Caro, troppe errori e troppe occasioni regalate alla matricola che con cinismo le ha sfruttate tutte, chiudendo già nel primo tempo la pratica. Parte subito forte l'Albatros che schiaccia gli avversari nella propria metà campo e al ventunesimo trova il gol del vantaggio con Gianluca Muratore, il giovane attaccante, classe 99, con un preciso pallonetto superava Milisenda per l'1-0. Al ventisesimo la squadra di Maniscalco raddoppiava con Filippo Pirrotta che sua azione personale non lasciava scampo al portiere ospite. Al quarantasettesimo, a pochi secondi dall'intervallo, la Libertas pregiudica definitivamente l'andamento della partita subendo il 3-0 ad opera di Carmelo Licastri, bravo a sfruttare un cross di Marguglio. Nella ripresa la Libertas trova una sterile reazione, tra l'altro l'Albatros rimaneva subito in dieci per l'espulsione di Gargagliano. Riesce tuttavia ad accorciare le distanze su un calcio di rigore trasformato da Gabriele Russo. Al novantesimo la sciocchezza di Alessio Lamedola che si fa espellere e poco dopo l'Albatros cale il poker con mossa per il definitivo 4-1. A fine gara De Caro ha commentato sapevamo di giocare in un campo difficile ma in parte ci abbiamo messo del nostro per perderla, non scendendo in campo con la testa. Onore comunque all'Albatros Lercara che ha dimostrato maggiore compattezza in campo. Ora serve un bagno di umiltà, ritrovarsi e soprattutto ricompattarsi in vista della prossima gara contro l'altra capolista del torneo, il Don Carlo Misilmeri di Albeggiano e compagni. Una partita sulla carta proibitiva ma non impossibile come hanno dimostrato le partite contro il Salemi e il Cinque Torri Trapani.